a questo punto in questo contesto non c'è ragione per cui proseguano le manifestazioni le gare le manifestazioni sportive penso al campionato di calcio quindi dispiace dirlo ma tutti anche i tifosi devono prenderne atto e non consentiremo neppure che possano essere utilizzate le palestre per ovviamente lo svolgimento di attività sportive